Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi ecco qua un video in collaborazione con l'azienda Molino Cipolla. L'azienda mi ha gentilmente inviato 5 kg della loro fantastica farina. La storia di questa azienda ha iniziato nel 1928 e il grado utilizzato per la realizzazione delle loro farine è rigorosamente coltivato in modo naturale e prodotto in Italia. E questa azienda cerca sempre di dare la massima qualità. I loro elevati standard qualitativi che li contraddistingono sono proprio dati dal fatto che sono attentissimi nell'analizzare e selezionare il grado. Quando si tratta di stare a tavola Molino Cipolla mette tutta la sua esperienza affinché quel momento così importante venga giustamente coronato da una ricetta impeccabile. E ora passiamo alla presentazione di queste farine. Questa è la farina di grano tenero tipo 00. Si presta bene alle preparazioni di pane focaccia casa rece a breve lievitazione. È ottenuta dalla macinazione del grano tenero e dalla successiva setacciatura. Dopodiché abbiamo la semola di grano duro. La farina di grano duro è studiata per tutte le preparazioni di pasta fatta in casa. Si utilizza anche nelle preparazioni lievitate come pane focaccia o pizza a cui conferisce un bel colore dorato. Poi abbiamo la polenta. Farina di mais secco degerminato, granulato, uito e setacciato secondo buona tecnica industriale. E queste sono tutte le farine che l'azienda Molino Cipolla mi ha gentilmente inviato. Sono davvero felice di aver avuto l'opportunità di collaborare con questa azienda in quanto le loro farine sono davvero di altissima qualità. E potete acquistare le loro farine direttamente dal loro shop online. Ringrazio ancora l'azienda e ci vedremo presto con delle ricette realizzate proprio con queste farine. Ciao a tutti! Ciao! 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 Ciao!